quello che vuoi lo sai sì sì fai partire tu fai partire mi sa che io devo andar c'è entrato tre ore per entrare e poi va via si ma vado in palestra adesso mi trovo adesso sono alle 6 finisco quanto sei disabile mentalmente beh pom parti ciao ciao ragazzi è stato bello giocare con voi io non so se vado kinesa cassi johnson adesso mi dite voi chi devo prendere ok prendi fernando non so come si usi ma prendiamo fernando ma al posto con i botti la facciamo e studiiamo pure la gente ah no non sono con i botti ma quella che posso usare lo scudo ma non lo so io ora occhio 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 quanto cazzo ignorante vai vai ce la facciamo ce la facciamo vai 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 buttati in mezzo buttati in mezzo grande bella bella mi è piaciuta rocco arrivo io arrivo io è troppo il mio ma scusate non capisco lo scudo come funzioni e ti assorvisce la maggior parte dei danni di tanti 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 ma quando quando può quanto posso usarlo è tanto dopo quasi sto ogni tanto spesa ma che cazzo quasi sto ogni tanto spesa ma cazzo ignorante questo cosa no una mano una mano sarebbe andrebbe comoda ma che cazzo una mano sarebbe andrebbe comoda no no c'è skycon che ha niente di vita non è vero dai dai che ce la facciamo no sono morto non ci aiutarti eh se va io sono morto perchè sono caduto nell'acqua aiuto dove siete si ma ero da solo contro 3 l'ho vista l'ho vista la prendo no sei ricaricato mi ha stuprato ma come ha fatto a shotarmi in un solo colpo poi pu mi hanno shotato ma co come mai non riusciamo a pushare cazzo che sono trappi cazzo sono un cazzo di dinosauro voglio volare lasciatemi ma ma è già iniziata ma chi è che fa che cazzo del rumore lì chi è che continua ad andare avanti in Drio di Okan con la porta lì occhio occhio ho bisogno di una mano 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 eh eh cazzo mi chiede una mano non mi chiede sai com'è abbiamo 3 notti eh però però se eravamo in Drio e poi li uccidevamo sti strazzetti bastardi vai vai eh ce l'ha riuscita a non farli conquistare altra roba no 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 ma anche te morirci così male però sai com'è è è dai ma cazzo ragazzi per favore riusciamo qualcosa a fare cosa bisogna fare eh cercare di fare quello un per cento che ci sta ecco cazzo un per cento doveva fare un per cento ecco se va adesso se se vengono loro poi se ne da merda eh e magari perché noi li li lasciamo ma porca puttana rukus c'è il cozzarello lì tartarugo ma porca puttana di quella maiale aiuto 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 me l'ho uccisa dai 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 coprimi 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 aspetta che arrivo arrivo coprimi porca puttana se ti dico coprimi ma porca ma porca puttana se ti dico coprimi coprimi cioè devi coprirmi ma porca puttana no bastami cazzo mi sono scuffato veramente ma dio porcole ma vaffacculo ma ragazzi dove siete ma veramente eh io sono qua in mezzo eh si lo vedo non stai facendo niente altro che eh ero lì con lo scudo fermo voi non ce l'avate eh ma tu devi andarci contro e stuprare eh ce l'ho davanti si ma non posso attaccare sullo scudo si che li puoi attaccare no ma non posso attaccare beh vabbè se ti attacchi lo rimetti eh certo così intanto mi ammazzo si ma anche voi però cazzo cazzi no 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 eh vabbè però dai ragazzi 11% riusciamo a farlo cazzo eravamo a 78 eh vabbè si ma ragazzi di nuovo a 99 di nuovo a 99 di nuovo a 90 nooo basta vaffanculo adesso prendo dio vittor vaffanculo Vabbè vado dal parrucchiere, ciao